Lo schianto lungo la Postumia, la moto che termina la sua corsa contro una rotatoria, il Centauro sbalzato a terra con violenza, è morto così Filippo Ceccato, 46enne di Campo d'Arsego. Domenica sera verso le 22 stava percorrendo in sella al suo scuterone Honda la strada Postumia in direzione di Castelfranco, quando all'altezza di Vedelago all'improvviso è finito contro la rotatoria di fronte all'hotel Antica Postumia. Per il 46enne non c'è stato nulla da fare, i medici del suo emano tentato a lungo di rianimarlo. Sul posto è intervenuta la polizia stradale di Treviso per ricostruire la dinamica dell'incidente mortale. Al momento sembra escluso il coinvolgimento di altri mezzi. Ceccato, 46enne, è figlio di un noto imprenditore dell'Alta Padovana nel ramo della costruzione delle macchine agricole. Per diversi anni aveva abitato a Campo d'Arsego trasferendosi solo un paio d'anni fa a San Giorgio delle Pertiche.